Tra nazionale Under 21, Under 20, sono 16 anni, 17 anni che vagabondo per Coverciano e per tutto il mondo con questa maglia addosso e pensare che è l'ultima volta che me la sono tolta è sicuramente qualcosa di doloroso, come lo è per tutti i giocatori che smettono, questa è una mia parentesi che finisce, però ripeto non potrei essere più orgoglioso dei compagni che ho visto, giovani, meno giovani, sono sicuro che l'Italia dovrà lavorare molto forte sui vivai eccetera eccetera e poi si ripartirà da grande perché il materiale c'è.